Grande spettacolo di gioco e di sportività tra club Arezzo e Cortona Volley, ma come accaduto nella derby stracittadino dell'ultimo turno, il club Arezzo non sa approfittare del vantaggio, si fa rimontare due parziali e questa volta esce sconfitto nello spareggio finale, raccogliendo solo un punto per la classifica generale. In vantaggio di 2-7 il club Arezzo non è riuscito ad approfittarne per battere il Cortona alla palaciotola di Terontola, risultato condizionato dalla tenuta di Capitan Zampitti che ha sciorinato il suo vasto repertorio finché sorretto dal fisico, leggasi ginocchio. Poi nella fase finale, rimasto stoicamente in campo, ancorché visibilmente claudicante, la pattuglia retina deve cedere con l'onore delle armi alla rimonta del Cortona sorretto da un superlativo martello cittadino, il miglior realizzatore della serata. Incontro entusiasmante dal finale incandescente ed elettrizzante con un risultato in bilico fino al 13 pari. Una indecisione difensiva tra due atleti a Maranto ha dato il via alla vittoria e i due punti ai cortonesi, uno agli ospiti consentendo loro di superarli anche in classifica generale. L'assenza del centrale Federico Maggini in casa a Club Arezzo si è fatta sentire soprattutto nel finale. Buona la conduzione arbitrale e come è corretto il pubblico presente, intervenuto numeroso in questo classico derby provinciale. Grazie a tutti.